Capitolo 7 Penose rivelazioni Therese possedeva un'indipendenza di pensiero eccezionale, considerando la sua vita e il suo ambiente, ma in quanto donna che viveva in stretto contatto con i suoi simili, era poco propensa a riflettere su idee astratte, salvo che per quello che riguardava l'individuo. Se mai fosse stata chiamata a esprimere la sua opinione sul divorzio, avrebbe potuto rispondere che non essendo quella una questione che la concerneva direttamente non ci aveva mai posto mente con serietà. Sentiva vagamente che in taluni casi poteva essere una benedizione, poteva concedere che dovesse essere spesso una necessità a cui comunque fa ricorso solo in situazioni estreme, al di là del limite della sopportazione. Influenzata dai pregiudizi della sua educazione cattolica, si ritraeva distinto dall'argomento, non considerandolo neppur remotamente connesso con la sua candida esistenza. Non c'era motivo per lei di soffermarsi sulla questione, si trattava di qualcosa da ignorare in modo sbligativo e da dimenticare prima possibile. Thérèse non aveva raggiunto l'età di 35 anni senza aver imparato che la vita presenta molti ostacoli insormontabili che devono essere accettati, con l'insensibilità della filosofia, con la ribellione della debolezza o la degnità del rispetto di se stessi. La mattina seguente il solo segno esteriore del suo turbamento era l'aspetto tipico di chi non avesse passato una notte riposante. Hosmer aveva deciso che il colloquio con Mrs. Lafirm non doveva più essere lasciato al capriccio del caso. Intorno alle 11 si mosse quindi dalla segheria sapendo che a quell'ora l'avrebbe probabilmente trovata da sola. Non vedendola si mise a interrogare i domestici, prima di tutti Betsy. Non so dov'è Mrs. Thérèse, disse Betsy, rimarcando la parola dove. Non la vedo da stamattina quando ha mandato zio Hiram da Morico a portargli del pane, aggiunse la sempre verbosa Betsy. Zia Belindi, tu sai dove è Mrs. Thérèse? Come faccio a saperlo? Sono sempre in cucina a cuocere il pane per quei fannulloni che farebbero meglio a lavorare nei campi come gli altri, invece di farsi mantenere. Mandy, che aveva fino ad allora ascoltato in silenzio, intuendo che era forse meglio dire quello che solo lei sapeva, si lasciò scappare. Mrs. Thérèse si è chiusa in salotto perché vuole che la lasciamo da sola. Penetrato nella fortezza dove Thérèse si riteneva al riparo da intrusioni, Osmer si sedette subito accanto a lei. Questa stanza rimaneva quasi sempre chiusa nei giorni estivi, quando la famiglia soggiornava prevalentemente nelle verande o nell'ampio vestibolo aperto. Bialeggiava uno strano profumo di impagliatura pulita mescolato a un lieve olezzo di rose che proveniva da un bizzarro vaso giapponese poggiato sul caminetto. L'aria entrava dalle persiane verdi semichiuse a lenti ondate, facendo ondeggiare avanti e indietro le tende trasparenti. Quadri di buon gusto si alternavano alle pareti con ritratti di famiglia, raffiguranti per la maggior parte persone rigide e di sgradevole aspetto, salvo quelli che erano così antichi, da ridestare comunque l'interesse e l'ammirazione della presente generazione, tanto lontana nel tempo. Alle persone di colore non era del tutto chiaro se quella stanza fosse una sorta di santuario dove si poteva appena respirare, e anche questo solo se strettamente necessario. Mrs. Laferme, iniziò Osmer, Melisand mi ha detto di averla informata ieri sera della questione di cui desideravo parlarle oggi. Sì, rispose Therese, chiudendo il libro che stava fingendo di leggere e posandolo sul davanzare della finestra accanto a cui sedeva. Poi aggiunse con grande semplicità, perché non me l'ha detto prima, Mr. Osmer? Lo sa Dio, replicò lui, convincendosi sempre di più che quella rivelazione gli stava cambiando la vita. Riluttanza a parlare di una cosa tanto penosa, reticenza innata, non so perché. Spero che lei mi possa perdonare e che questo non cambi nulla nei rapporti tra noi. Sarà meglio che le dica subito che non dovrà più ripetere quello che mi ha detto ieri sera. Era quello che Osmer temeva. Non reagì a parole, ma la sua ribellione interiore si manifestò in un pallore e in un irrigidimento dei tratti del viso ancora maggiori. Si alzò e andò a una finestra con lo sguardo perso nel vuoto. Non pensavo che lei fosse cattolica, disse alla fine voltandosi verso di lei a braccia concerte. Perché non ne ha mai visto segni esteriori? Ma non voglio darle un'impressione sbagliata. La religione non c'entra niente in questo. Quindi lei ritiene che a un uomo che ha avuto una tale sfortuna dovrebbe essere vietata la felicità che un secondo matrimonio potrebbe recargli. No, e neppure a una donna, se ciò si adatta ai suoi principi morali che ritengo siano una questione strettamente personale. Questo mi sembra un pregiudizio, rispose lui, aggrappandosi a un berlume di speranza. E i pregiudizi possono essere superati da uno sforzo della volontà. Ci sono dei pregiudizi ai quali una donna non può permettersi di rinunciare, mister Osmer, disse lei con un certo sussiego, anche a prezzo della felicità. Per favore non aggiunga altro, non ci pensi più. Lui si risedette di fronte a lei e guardandolo Therese fu mossa a compassione dalla sua evidente sofferenza. Me ne parli, vorrei sapere tutto della sua vita, aggiunse. È molto buono da parte sua, disse lui, tenendo per un attimo la mano sugli occhi. Poi, alzando lo sguardo bruscamente, è stata un'esperienza molto dolorosa, ma non avrei mai immaginato che potesse avere in serbo per me quest'ultimo colpo. Quando si è sposato? chiese Therese, pensando che sarebbe stato meglio se avesse raccontato tutta la storia. Dieci anni fa. Non sono bravo ad analizzare i caratteri, il mio e quello degli altri. Non mi sono mai spiegato del tutto perché ho fatto certe cose, o forse non ne ho mai veramente approfondito i motivi. Sono sempre stato essenzialmente un uomo d'affari. Non me ne vanto, ma non mi vergogno nemmeno ad ammetterlo. Ho sempre avuto pochi contatti sociali, in particolare con le donne, che non mi hanno mai attratto molto, forse perché non mi ci sono mai dedicato. Avevo quasi trent'anni, quando conobbi per la prima volta mia moglie. È successo a St. Louis? chiese Therese. Sì, ero stato indotto a partecipare a un'escursione sul fiume. Dio sa come. Forse non stavo bene, davvero, non ricordo. Ma in ogni caso un amico mi presentò una ragazza, Fanny Larimore. Era carina, non più che ventenne, tutta bianca e rosa, con allegri occhi azzurri e abiti eleganti. Comunque fosse c'era qualcosa in lei che fece sì che io rimasi al suo fianco per tutto il giorno. Ogni cosa che disse o fece erano di grande importanza per me. Ai miei occhi era come se quelle cose non fossero mai state dette o fatte prima di allora. Si era innamorato, sospirò Therese. Non avrebbe saputo dire perché sospirasse. Penso anch'io. Bene, da allora mi ritrovai a pensare a lei nei momenti meno opportuni. Tornè a trovarla più volte. La mia prima impressione divenne ancora più profonda e dopo due settimane le chiesi di sposarmi. Posso dire senza tema di smentite che non conoscevamo nulla dei nostri caratteri. Dopo il matrimonio le cose andarono abbastanza bene per un po'. A quel punto Osmer si alzò e si mise a camminare su e giù per la stanza. «Missis la firma», aggiunse. «Non capisce quanto possa essere difficile per un uomo denigrare la donna che è stata sua moglie agli occhi della donna che ama. Mi risparmi il resto». «La prego non abbia riserve per me. Non la giudicherò male in ogni caso». Qualcosa di inspiegabile la spingeva a voler sapere tutto. «Non passò molto tempo prima che cercasse di farmi entrare in quella che lei chiamava società», proseguì Osmer. «Sono poco versato nel riconoscere differenze di sfumature tra le classi, ma mi ero accorto subito che i conoscenti di Fanny non erano del rango sociale migliore. Mi ero vagamente atteso che dopo il matrimonio si sarebbe allontanata da loro e naturalmente mi opposi a qualcosa di tanto sgradevole per me quanto l'essere trascinato in un vortice di divertimenti che non aveva alcuna attrattiva per me. Inoltre il mio giro d'affari si stava ampliando e ciò richiedeva da parte mia la massima concentrazione e dedizione. Un anno dopo il matrimonio nacque il nostro figlio. Qui Osmer cessò di parlare per un attimo, evidentemente sopraffatto, dei dolorosi pensieri che si accalcavano nella sua mente. «Si tratta del bambino il cui ritratto lei ha in ufficio?» chiese Therese. «Sì». E riprese con evidente sforzo. Per un po' sembrò che il bambino potesse fornire alla madre quelle distrazioni che lei continuava a cercare fuori casa, ma la cosa non durò e presto lei tornò inquieta come prima. Alla fine nulla ci univa più se non nostro figlio. Il nostro amore per lui era l'unico sentimento che avevamo in comune. A tre anni morì. Mellicent era venuta ad abitare con noi dopo aver finito la scuola. Era una ragazza allegra e vanitosa come ora e nei suoi soliti modi esagerati in oridì è la Mesa Jans, come la definì lei, che avevo fatto. Dopo un mese se ne andò a vivere da amici ed io non mi opposi. Vedevo poco mia moglie perché ero spesso via, ma per quanto scarso osservatore avevo notato di tanto in tanto in lei dei modi strani che mi preoccupavano vagamente. Sembrava volermi evitare e finimmo per allontanarci sempre di più. Un giorno tornai a casa presto e Mellicent era con me. Trovammo Fanny in salotto sdraiata sul divano. Quando entrammo ci guardò con aria da pazza e nel cercare di alzarsi si aggrappò senza riuscirci allo schienale di una sedia. Mi sentii come se una qualche terribile calamità minacciasse la mia esistenza. Immagino di aver guardato impotente Mellicent chiedendole che cosa non andasse in mia moglie. Gli occhi di Mellicent spavillavano di indignazione. Non vedi chi ha bevuto? Che Dio ti aiuti? Esclamò. Mrs. Laffirm, lei sa ora la ragione che mi ha spinto ad andarmene da casa senza farvi più ritorno. Non ho mai fatto mancare a mia moglie ogni comodità, ma lei ha comunque chiesto il divorzio qualche anno fa e io gliel'ho concesso, raddoppiando gli alimenti instabiliti. Adesso conosce tutta questa miserabile storia. Mi perdoni per averla tirata tanto in lungo. Dopotutto continuo a non capire perché ho dovuto raccontarla. Teresa è rimasta perfettamente silenziosa, a tratti rigida, spesso ascoltando ad occhi chiusi. Lui aspettò che parlasse, ma lei non disse nulla, salvo alla fine sua... sua moglie ancora giovane, sta dai suoi genitori. No, non li ha, suppongo, viva da sola. E pensa che abbia ancora quelle abitudini. Oserei dire di sì, non so niente di lei, salvo che da ricevuta per la somma che le pago tutti i mesi. Il volto di Therese si atteggiò a una riflessione ancora più dolorosa, ma non avendo più domande da fare ricadde nel silenzio. Gli occhi di Osmer imploravano uno sguardo da lei, ma lei non ricambiò. Non mi dice neanche una parola, la implorò. No, non ho nulla da dire, non voglio recarle dolore. Sopporterei tutto da lei, rispose lui, non riuscendo a capire cosa intendesse dire. La cosa più gentile che posso dire, mister Osmer, è che spero che lei abbia agito senza riflettere. Odio pensare che un uomo che mi sta a cuore abbia deliberatamente recitato la parte di un crudele egoista. Non la capisco. C'è una cosa nella sua storia che mi è molto chiara, rispose lei. Ha sposato una donna debole di carattere, le ha fornito ogni mezzo per accrescere quella debolezza e l'ha tagliata fuori totalmente dalla sua vita. L'ha lasciata in pratica senza alcun sostegno morale, così come ha fatto ora, abbandonandola. È stata un'azione da codardo. Therese pronunciò le ultime parole con decisione. Secondo lei, quindi, un uomo non deve nulla a se stesso, chiese Osmer tentando di difendersi. Sì, un uomo deve avere il coraggio di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Osmer era rimasto seduto. Non seguì neppure con lo sguardo Therese, che si era alzata e si muoveva irrequieta nella stanza. Si era considerato per lungo tempo un martire e si era così abituato a quell'immagine di sé che non riusciva ora all'improvviso ad assuefarsi a una diversa. E non era nemmeno disponibile ad accettare un modo di vedere la situazione che l'avrebbe posto ai suoi propri occhi in una luce vergognosa. Cercò di convincersi che Therese stava sbagliando, ma anche ammettendo il dubbio che lei avesse ragione, le sue parole recavano in sé una verità che non riusciva a scrollarsi di dosso. Sentiva che Therese era una donna le cui percezioni, sul piano morale, erano più acute delle proprie. L'amore per lei, che nelle ultime 24 ore era cresciuto fino a sopraffarlo, lo spingeva a una cieca sottomissione. Che cosa vorrebbe che facessi? Mi sisse la firma. Vorrei che facesse ciò che è giusto, fu la sua trepidante risposta. Oh, non mi metta di fronte a domande di cosa sia giusto o sbagliato. Non vede che sono cieco, disse accusandosi. Qualunque cosa faccia la farò perché lo vuole lei, perché io la amo. Lei era in piedi accanto a lui e Osmer le prese la mano. Fare qualcosa per l'amore che nutro per lei sarebbe la sola consolazione e la sola forza che mi rimane. Non dica così, lo implorò lei. Nella vita non c'è solo l'amore, c'è qualcosa di più elevato. Mio Dio, non può essere, esclamò Osmer, premendo appassionatamente la mano di Therese sulla fronte, sul viso, sulle labbra. Oh, non mi renda tutto più difficile, disse lei con dolcezza, tentando di ritrarre la mano. Fu il suo primo segno di debolezza e lui lo sfruttò a suo vantaggio. Si alzò di colpo e senza esitare l'ha presa tra le braccia. Per un breve istante rischiarono che il proposito di rinuncia diventasse non solo più difficile, ma addirittura impossibile per entrambi, dato che, dimentichi di tutto tranne che del loro amore reciproco, le loro labbra si incontrarono. Da fuori la grande campana della piantagione rintoccava il mezzogiorno. Era giunta la dolce ora del riposo, ma per Osmer quel suono fu come la voce di un demone beffardo che si prendeva a gioco dell'angoscia del suo spirito mentre montava a cavallo e ritornava alla stegheria. Capitolo 8. I piaceri di Melisent. Melisent sapeva che suo fratello e Mrs. Laffirme si stavano scambiando delle confidenze dalle quali lei era esclusa. Aveva notato come spesso i due confabulassero in angoli appartati delle verande. Una sera di chiaro di luna si erano deliberatamente allontanati per camminare su e giù sulla ghiaia del biottolo che conduceva dalla porta principale al viale e Melisent si era immaginata di vederli indugiare nell'ombra profonda delle due grandi querce che formavano un arco sul cancello. Ma si trattava naturalmente della sua immaginazione, la debolezza di una giovane fanciulla che pensa che il mondo debba andare come lei vorrebbe che andasse. Era abbastanza sicura di aver udito Mrs. Laffirme dire l'aiuterò. Poteva darsi che David stesse incontrando ristrettezze finanziarie e che stesse chiedendo il supporto di Therese? No, era improbabile e inoltre di cattivo gusto così Melisent decise di non angustiarsi più con quel sospetto. Era molto più piacevole credere che la relazione tra suo fratello e la sua amica si stesse sviluppando secondo quello che lei desiderava per loro. Certo le sue perplessità non diminuirono quando David li lasciò per andare a St. Louis. Melisent non era pronta né disposta a partire con lui quando glielo chiese e rispose che la sua visita non era ancora terminata. Restare da sola nel cottage durante la sua assenza era fuori questione così trasferì armi e bagagli nella casa prendendo possesso di una delle numerose stanze libere. Con la sua abituale energia riuscì a trasformare il trasloco di per sé un divertimento modesto in un'occasione nella quale poter disporre a suo capriccio di una larga parte del personale della piantagione. Melisent si accingeva a uscire e si guardò un'ultima volta allo specchio per accertarsi che fosse tutto a posto. Era vestita di nero dalla testa ai piedi, dalla grande piuma di struzzo che oscillava sul cappello attesa larga alla punta delle scarpe di vernice che spuntava da sotto il suo abito, una cosina trasparente e vaporosa che avvolgeva senza stringere la sua snella e armoniosa figura. Rise nel vedere riflessa un'immagine tanto scura e la ravvivò subito mettendo di traverso nella cintura un mazzo di geranni scarlatti a gambo lungo. Melisent, sempre deliziosa, era molto carina quando rideva. Lei lo sapeva e rise ancora fino al profondo dei bei occhi scuri. Un angolo della larga bocca sollevato in modo provocante, le labbra color cremisi che parevano contenere tutto il colore che mancava le guance, un po' socchiuse a lasciare intravedere l'abbagliante bianco dei denti. Nel guardarsi di nuovo con occhio critico pensò che qualche chilo in più li sarebbe stato senz'altro bene. Solo pochi giorni prima era tutto sommato soddisfatta della sua snellezza, ma ora preferiva una certa paffutezza del tipo ben rappresentato da Mrs. Laffirm. In ogni caso, nell'insieme, non era scontenta del suo aspetto e presi i guanti e parasole uscì dalla stanza. Era giorno pieno, uno dei requisiti che Gregoire riteneva essenziali per portare Melisent a visitare la tomba del vecchio MacFarlane. Visto che era settembre, i due giovani erano disponibili a passare sopra l'altra condizione, e cioè che il sole stesse splendendo. Si erano quasi arrampicati sulla cima della collina e stavano sul bordo del percorso della ferrovia contornato da erba ruffata e giovani pini nati di recente. Da una parte e dall'altra dei binari, fin dove arrivava la vista, le rotaie d'acciaio luccicavano fino a perdersi gradualmente nella penombra. Davanti a loro c'erano appezzamenti di terreno bianchi di cotone, con decine di persone di colore, uomini, donne e bambini, che lo raccoglievano con abilità, per poi gettarlo in grandi sporte che pendevano dalle loro spalle e che trascinavano dietro di loro per terra. Non era ancora stata inventata la macchina che riuscisse a superare l'efficienza di cinque dita umane nello strappare il cotone dalla sua presa tenace. Altrove, delle squadre raccoglievano i gambi secchi del Gran Turco da utilizzare come foraggio, un lavoro faticoso e sgradevole. Nel campo attiguo, dove il cotone giovane e verde non era ancora maturo, il sorvegliante cavalcava lento tra i filari, spargendo in gran quantità polvere di topicida e insetticida da due sacchi di cotone appesi alle estremità di una corta asta di traverso sulla sella davanti a lui. Gregoire sarebbe stato necessario solo più tardi, quando il cotone fosse stato trasportato alla sgranatrice per essere pesato, i muli condotti alla stalla per essere nutriti e accuditi e tutte le attrezzature rimesse al loro posto. Nel frattempo poteva stare tranquillo con Melisent. Si inoltrarono nel bosco, perdendo presto di vista ogni cosa salvo gli alberi che li circondavano e il sottobosco, che era scarso e sparpagliato sul tappeto erboso a cui l'altezza degli alberi consentiva di crescere verde e rigoglioso. Là, sul pendio della collina, trovarono la tomba di Mac Ferlin, che riconobbero solo dalla croce di legno mal ridotta e consumata dalle intemperie, che pendeva indecorosamente tutta da un lato, dato che nessuno al mondo si preoccupava di raddrizzarla e dalla quale le iscrizioni erano state da tempo cancellate. Quella croce era tutto ciò che segnava la dimora di quella forma simile a una nebbia che si vedeva così spesso nell'oscurità scendere con passo minaccioso dalla collina o in notti di luna piena attraversare il lago in una piroga. In quel caso, sebbene si udisse il rumore dei remi che si immergevano nell'acqua, la liscia superficie del lago non si increspava. In notti tempestose qualcuno maggiormente dotato di poteri sensitivi e con l'udito affinato a percepire le delicate intonazioni del soprannaturale non solo aveva visto la figura evanescente salire e volare tra le colline, ma aveva anche sentito l'ansimare dei sigugi, mentre il branco invisibile correva all'inseguimento del negriero morto tanto tempo prima. Ma ora era giorno pieno e non c'era nulla di sinistro che potesse causare a Melisand il minimo fremito di paura. Nei dintorni non svolazzavano gufi né pipistrelli né alcun altro uccello di malaugurio. Solo un uccello beffardo posato sugli alti rami di un pino emetteva spensieratamente i suoi staccati penetranti come se stesse levando un peana a un'anima assunta in paradiso. Povero vecchio McFarlane, disse Melisand, vorrei tributare un piccolo omaggio alla sua memoria. Immagino che il suo spirito nell'aldilà abbia sentito solo insulti da quando ha lasciato il suo corpo qui sulla collina e prese uno dei fiori rosso sangue che aveva la cintura per deporlo accanto alla croce inclinata. Suppongo che sia in un posto dove non si innaffiano molto i fiori sempre che ce ne siano. Vergognati di parlare in modo così crudele. Non credo che esistano posti simili. Non credi all'inferno? chiese lui sorpreso. No di certo, sono un'italiana. Questa mi è nuova, fu il suo unico commento. Credi negli spiriti, Gregoire? Io no, almeno di giorno. Non preoccuparti degli spiriti, rispose lui prendendola per un braccio e conducendola via. Andiamo via di qua. Trovarono presto un pendio poco ripido dove Melisent si sedette comodamente con la schiena appoggiata a un ampio tronco e Gregoire si sdraiò appoggiando il capo sul grembo della fanciulla. Quando Melisent aveva incontrato Gregoire per la prima volta, il suo modo di parlare, tanto inconsueto per lei, sembrò subito escluderlo da ogni possibile considerazione da parte sua. Non era allora in grado di percepire le sottili differenze psicologiche tra un uomo e un altro e ciò le precludeva la possibilità di etichettarlo e classificarlo nel regno morale, come si potrebbe fare in quello animale. Ma quei suoi difetti di linguaggio, che in definitiva non sembravano sminuire la sua fondamentale buona educazione, incidevano sulla sua personalità come delle imperfezioni fisiche, che senza certo aggiungere fascino, pur nel loro aspetto patologico, contenevano in sé una certa attrattiva per uno spirito stravagante come quello di Melisent. Dopo averlo quindi all'inizio solo sopportato, poco per volta cominciò a piacergli, finché alla fine, indulgendo a una certa introspezione e facendo una diagnosi di vari sintomi che non indicavano una seria malattia, decise di essere innamorata di Grégoire. Le era peraltro chiaro che da ciò non sarebbe venuto nulla. Accettò il fatto come una manifestazione di quel destino inesorabile da cui nei suoi momenti di pessimismo era inclini a considerarsi perseguitata. Non poteva pensare nemmeno per un minuto di sposare un uomo la cui stravaganza nel parlare non si adattava certo ai requisiti della buona società. Lui l'aveva baciata un giorno. Qualunque cosa avesse quel bacio, forse un'esuberanza eccessiva, a lei non era piaciuto e gli vietò di farlo ancora, pena la perdita del suo affetto. In vero, nelle poche occasioni nelle quali Melisent si era fidanzata, i baci erano sempre stati esclusi e considerati superflui nella relazione, eccetto nel caso del giovane tenente a Fort Leavenworth che le leggeva Tennyson come solo un angelo saprebbe fare e al quale, in momenti di estatica dimenticanza di sé, era consentito baciarla sotto l'orecchio. Azione questa, che non era del tutto sgradita a Melisent, salvo che per il solletico che le faceva. I capelli di Gregoire erano soffici, non scuri come quelli di lei, e avevano la tendenza ad arricciarsi intorno all'esilidita della ragazza. Gregoire disse, mi hai detto una volta che i ragazzi Saintien sono dei tipi duri, che cosa intendevi con questo? Oh no, rispose lui, ridendo di cuore e guardandola negli occhi. Non mi hai sentito bene, volevo dire che abbiamo una brutta fama. Non so neanche io perché, forse perché abbiamo sempre fatto come ci pareva. Ma diamine, qui, a Place de Bois, si può vivere come un santo, non ci sono tentazioni di sorta. C'è poco merito nel fare bene, se non hai intenzioni a cui resistere, disse lei con il tono e l'aria di un saggio che declama una verità ispirata. Melisand sentiva di non conoscere a fondo Gregoire, che in sua presenza cercava sempre, più o meno, di controllarsi. Ed era mossa da qualcosa di più della curiosità a scoprire la verità su di lui. Un giorno, mentre Melisand stava sistemando un vaso sul tavolo della veranda sul retro, Zia Belindi, che era con lei a lucidare dei coltelli, seguì con lo sguardo Gregoire che se ne andava dopo aver scambiato qualche parola con la ragazza. Buondio, sembra davvero un altro uomo da quando è arrivata lei. Un altro uomo? Aveva chiesto curiosa la ragazza, guardando di sbieco Zia Belindi. Sì, mia cara, prima che lei venisse qui, Mr. Gregoire andava tutte le domeniche a Centerville a scatenare un potiferio. Lo conosco io. Melisand non aveva osato chiedere altro, ma aveva preso il suo vaso di fiori ed era entrata in casa, non avendo in alcun modo accresciuto la sua comprensione di Gregoire a seguito dell'informazione ricevuta che quando lei non c'era, lui scatenava putiferi. Un modo di agire che non se la sentiva di condannare su due piedi, dato che non ne riusciva a cogliere tutte le possibili implicazioni. Nel frattempo non voleva consentire ai suoi dubbi di interferire con la gentilezza che gli riservava, poiché si rendeva conto che Gregoire l'amava di un amore disperato. Non stava anche allora guardandola negli occhi parlando della sua sofferenza e della crudeltà di lei. Non stava sprofondando il volto nel suo grembo per piangere, e lei lo sapeva. Non l'aveva forse già visto giacere per terra in un'agonia di lacrime quando lei aveva detto che non avrebbe dovuto baciarla più? E così si attardarono nei boschi, quei due curiosi amanti, finché le ombre si addensarono a tal punto sulla tomba del vecchio McFarlane che passarono oltre a passo veloce, distogliendo lo sguardo. Capitolo 9 Faccia a faccia Dopo una giornata di settembre particolarmente affosa, durante la notte aveva piovuto, ed era seguito un mattino freddo e frizzante, anche se traspariva la possibilità che il sole riuscisse a rompere nella nebbia che si era alzata all'alba dal grande fiume lento, diffondendosi nei labirinti della città. Il cambiamento era uno di quelli da propagare nel sangue, brividi rinvigorenti e da far accelerare il passo, da rendere piacevoli le spinte e gli urti della moltitudine che si affollava per le strade, da far amare la vita fino a inebriarsi e da rendere insofferenti di fronti e limiti posti all'umanità dall'assenza di ali con cui poter volare. Ma nulla di tutto ciò riscaldò il cuore di Osmer, il cambiamento lo fece solo rabbrividire e stringersi più stretto la giacca al petto, mentre si faceva a strada tra la folla frettolosa. L'esposizione di St. Louis era in corso con tutte le sue numerose attrazioni che ormai da mesi venivano annunciate dai giornali dello Stato. Da qui l'insolita calca della folla per le strade in quella radiosa mattina di settembre. La gente del posto, immediatamente riconoscibile per quell'area da padroni di casa, andava avanti e indietro con indifferenza, pensando ai suoi affari. Donne e bambini delle ricche città di campagna vicine erano lì per l'esposizione e per i loro acquisti autunnali, con abbigamenti all'ultima moda dove nulla era lasciato al caso. Non potevano certo rischiare che un nastro o un occhiello fossero in disaccordo con la rivista di moda. Intere famiglie dall'altra parte del ponte si affrettavano verso l'esposizione, padri e madri, bambini e nonne, con cestini per il pranzo e involti di provviste per la giornata. Nulla sarebbe sfuggito alla loro osservazione né alle loro critiche, dalle opere a colori che rivestivano le pareti della galleria d'arte, ai più complessi meccanismi del genio inventivo nel seminterrato. Tutto sarebbe stato espezionato per confrontarlo con l'anno precedente e l'anno prima ancora, probabilmente con una cadenza strascicata dove le R erano poste in tale evidenza da non lasciare dubbi sul fatto di essere state pronunciate. Una coppia appena sposata, proveniente dall'interno della campagna, camminava serenamente tra la folla, giovane, sorridente, mano nella mano, compiaciuti di sé con il loro nuovo abbigliamento e i loro nuovi gioielli, avrebbero probabilmente risposto con amabilità al chiedo scusa di Osmer anche se li avesse fatti cadere per terra. In realtà le aveva solo spinti di lato con una certa violenza nel salire al volo a bordo del tram che stava passando veloce senza dar mostra di voler rallentare. Pur fuori esercizio era ancora abbastanza agile da aggrapparsi al corrimano per poi andare a sedersi in uno dei sedili anteriori, ben abbottonato fino al collo, godendosi il riposo di quella mezz'ora di viaggio. La località in cui scese presentava alcuni notevoli cambiamenti dall'ultima volta che era stato lì. In passato era una strada piuttosto tranquilla con una comoda carrozza a cavalli che depositava i suoi passeggeri a due isolati di distanza in direzione nord e che si risvegliava in qualche modo nei pomeriggi nei quali orde di bambini ne prendevano possesso. Ma ora il tram era venuto a disturbare il suo atavico riposo senza nulla aggiungere alle sue attrattive. C'era ancora la farmacia all'angolo con lo stesso proprietario appoggiato all'indietro sulla sedia leggere il giornale come prima con l'unico cambiamento che un paio di occhiali introdotti da poco dava al suo aspetto. Il garzone della farmacia era entrato nella sua virilità come chiaramente indicato dai baffi che nell'aggiungere ornamento e dignità alla sua persona l'avevano innalzato al di sopra dell'umile ufficio di lavavetri. Compito questo affidato a un moccioso senza baffi con una propensione alla furtiva distrazione offerta da caramelle e gomme da masticare nei momenti liberi da impegni manuali che non richiedevano il supporto di una mente strategica. Dove prima c'era stato un lotto vacante dall'altra parte della strada, i campi lisi della domenica pomeriggio dei piccoli giocatori di baseball di Beedle Street ora si trovava una fila di appartamenti nuovi di zecca. Meraviglioso doveva essere stato l'ingegno architettonico che aveva saputo raggruppare così tante abitazioni in uno spazio così piccolo. Davanti ad ogni casa si stendeva un terreno erboso tagliato a misura e ogni porta d'ingresso in miniatura aveva la sua decorazione, ognuna più elaborata di quella del vicino. La casa della quale Osmer suonò il campanello, un'abitazione semplice di mattoni rossi a due piani che si trovava vicino alla strada, era molto all'antica rispetto alle costruzioni moderne di fronte e alla recente metamorfosi dell'abitazione accanto, che con l'aggiunta di portici e appendici vari, tali da mettere a dura prova le facoltà di congettura umane, non era più riconoscibile per quello che era stata. Persino il campanello era antiquato e continuava a risuonare in tutta la casa molto tempo dopo che la domestica aveva aperto la porta, se solo fosse stata passabilmente attenta al suo richiamo. Il suo rimbombo si stava perdendo nell'aria quando Osmer chiese se Missy Selarimor era in casa. Missy Selarimor c'era, una missione che sembrava avere in riserva a un, e anche se lo fosse signore, Osmer si sentì sollevato nel trovare cambiato il piccolo salotto con annessa sala da pranzo in cui fu fatto accomodare. I tappeti che lui e Fenni erano andati insieme a comprare durante i primi anni del loro matrimonio erano stati sostituiti da altri che erano stesi sui pavimenti ben lucidati. La carta da parati era diversa, così come i tendaggi. La mobilia era stata rivestita di recente, solo le piccole divinità domestiche erano quelle di sempre, tutte cose di poco valore di cui non si era mai occupato e che non avevano mai impressionato molto e che neanche ora in quell'ambiente tanto mutato suscitavano in lui alcun ricordo, piacevole e triste che fosse. Non voleva accogliere la sua ex moglie alla sprovvista e le aveva quindi scritto in precedenza della sua intenzione di andare, senza darle peraltro alcuna indicazione dei suoi motivi. C'era qualcosa del bulldog in Osmer. Dopo aver preso una decisione non si abbandonava a rimpianti, non si curava dei se e dei ma, ma come un soldato coraggioso rimaneva al suo posto, in questo caso non un posto pericoloso in verità, ma comunque potenzialmente fuoriero di più di una seccatura. E cosa aveva detto Mayer al riguardo? Aveva inveito naturalmente, come gli era abituale, contro il fatto che il destino di un uomo si sottomettesse alle regole esigenti e incolte di ciò che egli chiamava convenzioni morali. Aveva sorpreso ed esacerbato Osmer con la sua denuncia di quella che definiva i consigli sofistici di Therese. Piuttosto, proponeva lui, lasciate che Osmer e Therese si sposino e se Fanny dovesse essere redenta, anche se poneva in ridicolo la nozione stessa, come incompatibile con certi modi di vedere di quelli che lui chiamava diritti all'esistenza, l'esistenza del male, delle sofferenze, delle malattie e della morte. Lasciamo che vadano a formare il tutto e lasciamo che il singolo si aggrappia alla sua personalità. Ma se lei doveva essere riscattata, concedendo questo punto alla loro meschinità, la redenzione doveva provenire da vie diverse da quelle del sacrificio, che fosse il risultato della loro comune felicità. Osmer non ascoltò il suo amico Mayer, l'amore era il suo dio ora e Therese ne era profeta. Sedeva così in quel salottino in attesa dell'arrivo di Fanny. Lei arrivò dopo essersi concessa un po' di nervosismo femminile. Attraverso le porte aperte Osmer potei sentirla scendere le scale di servizio e potei sentire che si era fermata a metà strada. Poi passò dalla sala da pranzo e lui si alzò per andarle incontro, tendendole la mano che lei non fu subito pronta ad accettare perché era agitata e non preparata a qualsiasi comportamento lui avesse deciso di adottare. Si sedettero l'uno di fronte all'altra e rimasero per un po' di tempo in silenzio. Egli rimase stupito, alla vista degli allegri occhi azzurri sbiaditi e affondati nelle orbite scure, al ragnatela delle piccole rughe intorno alla bocca e agli occhi che si stendevano sulle guance, un tempo rotonde e che erano ora incavate ed evidentemente pallide o giallastre sotto uno strato di belletto che era stato posato da una mano impietosa. Eppure poteva ancora apparire graziosa o almeno gradevole a una forte natura sulla quale avrebbe potuto fare appello da patetica debolezza del suo viso. Non c'era modo di indovinare quale potesse essere la sua figura infagottata in un abito alla moda e uno scialle pettinato le copriva le spalle che a volte tremavano come per brividi di freddo interiore. Prese per prima la parola attorcigliando le estremità di quello scialle. Perché sei venuto David? Perché sei venuto ora? Evidentemente disturbata dalla sua presenza. So di essere venuto senza essere invitato disse lui dimostrando di aver capito. Mi hanno aperto gli occhi non importa come su errori che ho commesso nel passato e quello che voglio fare ora è rimediare se me lo lascerai fare. Era qualcosa che lei non si aspettava e rimase sorpresa ma non manifestò né dolore né piacere solo un disagio evidente dalla sua espressione. Sei stata malata? chiese all'improvviso lui come se rilevasse solo ora i dettagli del cambiamento nel suo aspetto. Oh no non dall'inverno scorso quando ho avuto una grave polmonite pensavano che sarei morta. Il dottor Franklin mi ha detto che sarei morta se Belle Worthington non si fosse presa tanta cura di me. Ma non capisco cosa tu voglia fare venendo qui adesso. Sarà di nuovo la stessa cosa. Non ne vedo proprio l'utilità David. Non parliamo dell'utilità Fanny. Voglio prendermi cura di te per il resto della tua vita o della mia come ti avevo promesso dieci anni fa e voglio che tu me lo lasci fare. Sarebbe la stessa storia di nuovo? Ripete lei con fare impotente. Non sarà la stessa storia? Rispose lui deciso. Io non sarò lo stesso e questo farà la differenza. Non capisco perché tu voglia farlo David. Perché dovremmo sposarci di nuovo e tutto il resto. Non è vero? Certo rispose lui con un debole sorriso. Vivo nel sud ora in Louisiana. Gestisco una segheria laggiù. Oh non mi piace il sud. Sono andata a Memphis con Belle e Ludosum. È stata la scorsa primavera dopo che ero stata malata. Non mi capacito proprio di come una persona possa vivere laggiù. Ti piacerebbe il posto dove vivo? È una bella e grande piantagione. È la signora che la possiede potrebbe essere la migliore delle tue amiche. Sa perché sono venuto qui e mi ha detto di riferirti che avrebbe fatto di tutto per rendere felice la tua esistenza se glielo consenti. È lei che ti ha detto di venire? Rispose Fanny subito risentita. Non capisco perché debbano essere affari suoi. La determinazione di Fanny Larimore non era tale da tenere testa al volere di Osmer quando era deciso a raggiungere uno scopo. E dopo un'ora poco più di conversazione lei finalmente acconsentì. E quando lui se ne andò lei avvertì con la pace che si impadronì del suo cuore che lui le sarebbe appartenuto di nuovo ma in modo diverso come le aveva assicurato e lei gli credette sapendo che lui avrebbe mantenuto la sua promessa. La sua vita era a volte molto vuota negli intervalli fra le passeggiate, le matinee e la lettura di libri morbosi. Quell'euforia che aveva provato per il matrimonio con Osmer dieci anni prima si era presto spenta insieme al suo debole amore per lui quando aveva cominciato a temerlo e a sfidarlo. Ma ora che lui aveva detto che era pronto a prendersi cura di lei e a trattarla bene si sentiva molto confortata conoscendo la sua onestà. Capitolo 10. Le amiche di Fanny. Il giorno successivo alla visita di Osmer, Mrs. Lorenzo Worthington, nota agli amici come Belle Worthington, stava preparando un attento e minuzioso look da passeggio nel suo spogliatoio vicino alla finestra che dava sul davanti di uno degli appartamenti di fronte a quello di Mrs. Larimore. La tenda di pizzo la schermava efficacemente alla vista dei passanti senza peraltro ostacolare le sue frequenti osservazioni di ciò che succedeva per strada. La parte inferiore della figura di quella signora era drappeggiata o meglio sostenuta da un'abbondanza di sottovesti bianche e inamidate che frusciavano sonoramente ad ogni suo minimo movimento. Il collo era nudo così come lo erano le braccia bentornite che negli ultimi cinque minuti aveva tenuto a mezz'aria nell'atto di disporre al meglio un ciuffo di riccioli biondi squisitamente morbidi che aveva preso dal cassetto di lato e che stava adattando con l'aiuto di una moltitudine di piccole invisibili forcine ai suoi capelli lisci e ben spazzolati. Erano capelli biondi con un'oscurità sospetta alle radici e delle striature che a occhio attento avrebbero rivelato come l'arte avesse aiutato la natura a colorare i riccioli di Mrs. Worthington. Vestita di tutto punto ed evidentemente in attesa con impazienza contenuta della fine di quelle manovre aeree dell'amica, sedeva Lou, Mrs. Jack Dawson, una donna che la maggior parte della gente chiamava Bella. Se era in effetti così, nessuno avrebbe saputo dire perché, dato che la sua bellezza era qualcosa che non si poteva definire. Era alta e sottile, con capelli, occhi e carnagione di una tinta bruna neutra e manifestava nel volto e nell'aspetto un atteggiamento di sfida dovuto probabilmente a una certa eccentricità nel rifugire da tinture per capelli e cosmetici. Il suo viso era pieno di piccole irregolarità, uno strabismo appena percettibile in un occhio, il naso un po' storto da un lato e la bocca che si contraeva decisamente dall'altro quando parlava o rideva. Proprio quelle anomalie davano non so che di piccante alla sua espressione e affascinavano le persone, facendo loro credere che fosse bella. Completata l'acconciatura, Mrs. Worthington si concesse uno sguardo attento e dettagliato alla strada e il risultato fu l'improvvisa esclamazione «Che mi venga un colpo! Corri qui, Lou! Non è Fanny Larimore quella che sale in macchina con Dave Osmer?» Mrs. Dawson si avvicinò alla finestra senza fretta e senza in alcun modo condividere l'eccitazione dell'amica diede voce alla sua calma opinione. «Hanno fatto pace, ci scommetto quello che vuoi!» La sorpresa sembrava per il momento aver privato Mrs. Worthington della capacità di procedere con i suoi preparativi. Si lasciò cadere mollemente su una sedia nella misura in cui la sua condizione inamidata lo permetteva, l'espressione profondamente perplessa. «Beh, Belle Worthington, se dobbiamo essere all'Olympic alle due è meglio che ti dia una mossa!» «Sì, lo so, ma confesso di essere rimasta di stucco!» Un'iperbole veramente esagerata da parte di Mrs. Worthington, dato che la piuma che avrebbe dovuto buttarla a terra avrebbe incontrato una resistenza di circa 80 chili di solido peso. «Dopo tutto quello che ha detto di lui», aggiunse, cercando di rendere partecipe l'amica della propria sorpresa. «Beh, dovresti sapere che Fanny Larimore è una sciocca, no?» «Sì, ma non riesco proprio a capacitarmene, non c'è altro da dire!» E Mrs. Worthington si accinzi a completare l'ornamento della sua persona in uno stato di muto sbalordimento. Una volta finito, figurava come una donna splendida, fasciata in un abito di seta nera di qualità costosa, addobbato con giaglietti che pendevano, risplendevano e tintinnavano da ogni parte. Non uno dei suoi capelli biondi era fuori posto. brillava di pulito e il suo ampio viso senza espressione e gli occhi azzurri e insignificanti erano improntati al buon umore e al riso schietto, se non proprio musicale. Emanava un profumo di paciuli o di giochi club o comunque qualcosa di forte e penetrante che si attaccava ad ogni articolo del suo abbigliamento, persino ai guanti gialli di capretto che ora avrebbe dovuto indossare durante la sua corsa in macchina. Mrs. Dawson, abbigliata con analoga ricchezza e stile, mostrava più individualità nel suo look. Nell'uscire di casa fece notare all'amica. Vorrei che lasciassi perdere quel profumo, farebbe star male un morto. So che non ti piace, Lou, rispose Mrs. Worthington, scusandosi e un po' sconcertata. E ci sono stata attenta, parola mia, non pensavo che te ne saresti accorta. Accorta, caspita! esclamò Mrs. Dawson. Erano due signore che facevano la bella vita. Le condizioni economiche e la disponibilità dei loro mariti avevano permesso loro di trasformarsi in perfette perditempo di professione. La loro reciproca intimità, così come la stretta conoscenza con Fanny Larimore, risalivano un paio di anni dopo il matrimonio di Fanny, quando abitavano nella stessa grande pensione in centro città. Da allora la loro relazione si era sempre mantenuta viva. Una volta, quando le due ex signore erano in visita da Mrs. Larimore, vedendo gli appartamenti in costruzione, erano state assalite dal desiderio di abbandonare la vita nomade condotta fino ad allora, dedicandosi alla responsabilità di gestione di una casa, progetto che misero in atto non appena le case divennero abitabili. C'era un certo Mr. Lorenzo Worthington che lavorava da anni alla Dogana come impiegato. Che fosse stato trascurato, ciò era reso possibile dalla sua persona piccola, sparuta e discreta, o che la sua multiforme utilità l'avesse reso in un certo qual modo indispensabile per i suoi datori di lavoro, non è sicuro. Fatto sta che era sempre rimasto al suo posto, nonostante i vari cambiamenti di amministrazione che si erano succeduti dall'epoca della sua assunzione. Nel tempo libero dal lavoro, spesso nelle ore pomeridiane, quando faceva i turni di notte, amava stare seduto alla soleggiata finestra della cucina, con il lungo naso sottile e gli occhi miopi sprofondati nelle pagine di uno dei suoi preziosi libri, un piccolo tesoro che aveva raccorto al prezzo di molte rinunce. Uno dei tormenti della sua esistenza era la necessità di dover proteggere il suo tesoro dagli abusi e dal filisteo disprezzo della moglie. Quando si erano trasferiti nell'appartamento, Mrs. Worthington, durante l'assenza del marito, li aveva disposti tutti con una certa sistematicità sul ripiano superiore dell'armadio della cucina per toglierli di mezzo. Ma lui aveva protestato e preso una posizione decisa e la moglie aveva ceduto permettendogli di collocarli sul ripiano più alto dell'armadio della camera da letto, asserendo che non li voleva in giro perché rovinavano l'aspetto delle stanze. Mr. Worthington non aveva però previsto che la loro utilità, essendo peraltro così a portata di mano, potesse diventare una tentazione per la moglie. Cercando una volta un volume delle miscellanea di Ruskin, scoprì che era stato impiegato per sostenere la gamba rotta di un tavolino da toeletta. In un'altra occasione trovò che un volume di Schopenhauer, che si era procurato con molte difficoltà e a caro prezzo, i saggi di Emerson e altri due libri molto rari erano serviti alla signora come pesi per tener premuto un tessuto che aveva lavato e steso ad asciugare su una parte accessibile del tetto. Non gli sembrò quindi vero di poterli trasportare tutti al rifugio più sicuro dell'armadio della cucina, pagando segretamente una somma alla domestica per tenerli d'occhio. Mr. Worthington considerava le donne esseri di conformazione particolare e inadatta a fronteggiare le varie condizioni nelle quali si trovano a vivere, con forti inclinazioni morali per la maggior parte asservite tuttavia a una mentalità debole e inadeguata. Non era suo compito rimodellarle, il suo ruolo era semplicemente quello di sopportare con pazienza i capricci di una categoria di esseri umani che in fin dei conti offriva un interessante campo di studio a un uomo di abitudini speculative, senza pensare alla loro utilità per propagare la specie. Circa quest'ultima qualifica, Mrs. Worthington aveva fatto meno della sua giusta quota, avendo solo una figlia di 12 anni, alla cui formazione ed educazione provvedeva una delle zie del padre, una suora di una certa importanza del convento del Sacro Cuore. Un tipo di uomo molto diverso era Jack Dawson, il marito di Lou, basso, rotondo, giovane, biondo, di bell'aspetto e calvo, ma a St. Louis quale uomo dopo i 30 anni non lo è, diceva lui, con i modi simpatici di un commesso viaggiatore. Nelle occasioni in cui era a casa, una volta ogni due settimane, a volte meno, mai più spesso, il piccolo appartamento veniva messo sotto sopra. Lui lo riempiva di rumore e allegria. Se non si andava a teatro, si faceva un giro al Forest Park con un paio di cavalli veloci, terminando la giornata con una cena annaffiata da vino in un ristorante sul ciglio della strada. Oppure si organizzava una partita a carte, alla quale si invitavano in fretta e furia i vicini più simpatici, e se mancava qualcuno, le defezioni venivano colmate dalla larga cerchia di conoscenti che, se non erano già fuori, venivano chiamati al telefono alle 11 di sera. In tali occasioni si sentiva Jack raccontare ad alta voce aneddoti che iniziavano normalmente con «Quando ero a Houston, in Texas, l'altro giorno», oppure «Glielo dico io, signore, quei tizi laggiù ad Albuquerque hanno in mente qualcosa». Uno dei suoi motti di spirito prediletti era quello di chiedere a Belle o Lou, in un sussurro teatrale, se la ragazza dall'altra parte della strada avesse promesso di astenersi dall'alcol. Questo signore era in ottimi rapporti con la moglie, eccetto le lievi rimostranze dovute al fatto che talvolta perdeva denaro a poker. Ma siccome gli capitava raramente di perdere, e dato che non era per lui una questione di coscienza tenere sempre informata la moglie sulle fluttuazioni della sua fortuna, queste rimostranze avevano scarse occasioni di presentarsi. Ciò che egli pensava della moglie non poteva essere detto meglio che nelle sue stesse parole, che Lou era sempre all'altezza della situazione, caratteristica femminile che evidentemente teneva in grande considerazione. Le due signore in questione avevano quasi concluso la loro passeggiata quando Mrs. Worthington lasciò cadere quasi per caso. Non c'era alcun motivo da parte di quei due di venirti a trovare ieri sera, Lou, se non pura impertinenza. Mrs. Dawson si morse il labbro e il suo strabismo si accentuò, come accadeva di solito quando era nervosa. Ho comunque notato che non li hai trattati molto freddamente, replicò lei. Oh, non erano venuti a trovare me, altrimenti avrei detto chiaramente cosa pensavo di loro. Tu sai che sono sposati e loro sanno che anche tu lo sei e non avevano niente da fare là. Sono perfetti gentiluomini e non vedo cosa centri tu in ogni caso. Oh, questo è un altro paio di maniche, rispose Mrs. Worthington adombrandosi e chiudendosi in un silenzio offeso per circa dieci secondi, per poi proseguire. Spero che non abbiano intenzione di infilarsi alla matinée. Probabilmente lo faranno, visto che ci hanno dato i biglietti. Uno dei gentiluomini era alla matinée, Mr. Bert Rodney, ma di certo non si era infilato lì. Non aveva mai fatto niente di volgare o di cattivo gusto. Aveva solo fatto un salto. Dall'abbigliamento e dei modi squisiti, membro dell'alta società, esperto come nessuno meglio di lui nel galateo del perfetto gentiluomo, per il momento era in sconsolata attesa del ritorno della moglie e della figlia da Narragansett. Si sedette in un posto libero dietro le due signore e si piegò in avanti cominciando a parlare con loro nella sua bassa e affascinante cadenza strascicata. Mrs. Worthington, che spesso non riusciva a realizzare i suoi fieri disegni, fu gentile nei suoi confronti come se non avesse mai albergato nella sua mente il desiderio di dirgli cosa pensava di lui. Rifiutò comunque risolutamente un invito a cena. Un pacato sguardo di sbiego di Mrs. Dawson fece peraltro capire a Mr. Rodney, come se si fosse espressa a parole, che nel caso in cui fosse venuta meno la sua partì carré, poteva contare su di lei per un tet a tet. Capitolo 11. Il fardello volontariamente assunto. Il matrimonio era finito. Osmer e Fanny si erano sposati nella piccola biblioteca del loro ministro unitariano che avevano trovato intento a dare forma alla sua predica dominicale. Per deferenza gli avevano raccontato in breve le circostanze esteriori del caso, che lui peraltro già conosceva, dato che i due erano stati in passato membri della sua congregazione e non si erano risparmiati pettegolezzi. Aveva naturalmente perso di vista Osmer e negli ultimi anni aveva visto poco anche Fanny, che quando si sentiva di frequentare una chiesa di solito andava a quella della roccia del Redentore con la sua amica Belle Worthington. Questa signora era una buona cattolica nella misura necessaria per ascoltare una messa la domenica, a stenersi dalla carne il venerdì e nelle quattro tempora e festeggiare la Pasqua. Tali sacrifici, sebbene accompagnati da inevitabili disagi, erano tuttavia controbilanciati dalla confortante sicurezza che le davano di fare la cosa giusta. Il pastore era rimasto molto colpito dal significato di questo secondo matrimonio che era chiamato a celebrare e aveva offerto loro poche ben scelte espressioni di consiglio per il futuro. Il stagristano e la governante erano stati chiamati a far da testimoni. Poi Osmer aveva riportato Fanny a casa in taxi, come lei aveva chiesto, poiché aveva gli occhi rossi e gonfi. Nel piccolo vestibolo la prese tra le braccia e la baciò, chiamandola la mia bambina. Non avrebbe saputo dire il perché, se non che, in tal modo, intendeva esprimere di aver accettato la responsabilità di assumere su di sé tutti gli oneri che un padre deve sopportare quando dà vita un figlio. «Vorrei uscire per un'oretta, Fanny, ma se preferisci di no, rimango. No, David, voglio stare da sola», rispose lei entrando nel piccolo salotto con occhi grandi e pesanti per la stanchezza e per il conflitto interiore delle emozioni. Lungo Lindel Avenue, partendo da Grand Avenue e andando a ovest verso Forest Park, si estende per tre chilometri su entrambi lati del vasto e ben tenuto vialetto di Ghiaia una passeggiata di pietra liscia, delimitata in tutta la sua lunghezza da un doppio filare di alberi che, quando Osmer vi passò in mezzo, erano giovani e ancora esili. Se fosse stata domenica, si sarebbe trovato, tra una folla elegante a passeggio, essendo a quel tempo una moda per le persone dell'alta società, camminare fino a Forest Park e ritorno la domenica pomeriggio. Guidare un'auto era allora considerato un rispettabile diversivo solo nei sei giorni lavorativi della settimana. Ma non era domenica e quell'invitante passeggiata era pressoché deserta. Di tanto in tanto vi passava un operaio, goffo e apatico, facendo dondolare il suo secchio e portando qualche attrezzo sporco di terra. Oppure si trattava di un paio di ragazze determinate a fare esercizio a passi lunghi e ben distesi, come si usava allora, senza guardarsi intorno, né indugiare in chiacchiere amichevoli da ragazzine che le distraessero dallo scopo della loro camminata. Una fila continua di veicoli si dirigeva verso il parco a velocità moderata, come richiesto dalla legge. Su entrambi i lati dell'ampio viale si vedevano abitazioni di buon gusto, molte completate ma per la maggior parte ancora in costruzione. Osmer notava tutto ma senza farci caso. Era come se non stesse nemmeno pensando. Si sentiva come se stesse correndo via da qualcosa che lo stava raggiungendo velocemente e tutte le sue facoltà per il momento erano concentrate sul semplice atto di muoversi. Si dice che il movimento sia piacevole per l'uomo e non c'è dubbio che a un essere umano normale, dal corpo sano e la mente libera, il movimento porti un certo grado di divertimento. Ma laddove vengano coinvolte solo condizioni fisiche, il rapido movimento passa dall'estere a una fonte di piacere a un mero ripiego. Finché Osmer camminava riusciva a tenere a bada la pressione della coscienza. Se avesse osato si sarebbe messo a correre. Da quando era entrato nel parco c'erano file di carrozze che passavano sopra la sua testa. Le sentiva a intervalli ravvicinati rimbombare sul ponte di pietra. Avrebbe voluto essere alla guida di una di quelle carrozze. Per lanciarla a tutta velocità. Che corsa folle le avrebbe fatto fare. Da far trattenere il respiro a tutti per il terrore. L'avrebbe guidata fino alla fine. Alla morte e al caos. Tanto meglio. Improvvisamente si formò nella mente di Osmer una frase chiara e distinta. Conosciamo tutti quelle improvvise visioni mentali, fatti di parole o di immagini, provenienti da una fonte nascosta e ignota, che ci fanno tremare di timore reverenziale di fronte a quel misterioso potere della mente che si manifesta con la vividezza della materia visibile. È stata un'azione da codardo. Quelle parole lo trattennero impedendogli di andare più lontano e costringendolo a voltarsi e ad affrontare la realtà delle sue convinzioni. Non è uno spettacolo insolito quello di un uomo sdraiato sull'erba soffice e tenera in qualche angolo appartato di Forest Park con il volto nascosto tra le braccia piegate. Chi lo vede si chiede se dorma o se stia semplicemente riposando dalle fatiche della giornata. Non sarò mai coraggioso, pensava Osmer. Sarò sempre un codardo che fugge persino dai propri pensieri. Com'era difficile per lui questo insolito compito di avere a che fare con difficoltà moraliche in tutta la vita precedente, per quanto lievi esse fossero, aveva sempre sfuggito ed evitato. Ora si rendeva conto che non doveva più accadere. Se non voleva che la sua esistenza finisse in un vergognoso naufragio, doveva assumerne il comando e la direzione. Si era sentito capace di resistere a tutto da quando l'amore era diventato la sua guida e il suo sostegno, ma ora, oggi, qualcosa di nuovo si era insinuato nel suo cuore. Non qualcosa che si poteva sopportare, ma che doveva essere soffocato e spinto via. Era il demone dell'odio, così nuovo, così orribile, così disgustoso, che dubitava di poterlo guardare in faccia e sopravvivere. Ecco il problema della sua nuova esistenza. Alla donna che in passato aveva reso la sua vita incolore e vuota, lui aveva tranquillamente voltato le spalle, pur portando in sé una pietà non esente da tenerezza. Ma quella donna, che lo aveva involontariamente derubato di ogni possibilità di felicità terrena, lui quella donna, la odiava. La donna che per il resto della vita sarebbe dovuta essere la creatura al mondo a lui più vicina, lui la odiava. Odiava la donna di cui avrebbe dovuto prendersi cura e verso la quale sarebbe dovuto essere tenero, leale, generoso, e non esprimere alcun segno o parola se non di gentilezza, non compiere alcuna azione che non fosse premurosa. Questo era il compito che il destino aveva affidato al suo onore. Non si chiedeva se fosse possibile realizzarlo, aveva messo da parte ogni esitazione per fare spazio all'onnipotente. Così deve essere. Tornò lentamente a casa. Non c'era bisogno di correre, nulla lo inseguiva. Che affrettasse il passo o si trascinasse lentamente, da quel momento in poi non avrebbe fatto alcuna differenza. Il fardello da cui un tempo era fuggito era ora legato su di lui e non poteva essere sciolto, a meno che cercasse rifugio nell'oblio. Capitolo 12. Si recidono vecchi legami. Di ritorno dalla matinee, Belle e l'amica Lou Dawson, prima di entrare in casa, attraversarono la strada per andare da Fanny. Mrs. Worthington cercò di aprire la porta, ma trovandola chiusa suonò il campanello, poi cominciò a tamburellare sul vetro con le nocche. Era il modo in cui era solita annunciare il suo arrivo. Fanny venne ad aprire personalmente e le tre signore entrarono in salotto. Non ti vedo da un'eternità, Fanny, cominciò Belle. Dove diavolo ti eri nascosta? Mi hai vista ieri a colazione, quando sei venuta a prendere in prestito il modello della veste da camera, replicò Fanny, seriamente risentita per l'esagerazione dell'amica. E mi hai servito proprio molto a quel vecchio modello. Troppo stretto da tutte le parti, per quanto allarghi le cuciture. Ma guarda qui. Belle non capisce niente riguardo alla sua taglia. Non c'è modo di convincerla che non è una silfide. Grazie tante, Mrs. Dawson. Beh, è un dato di fatto. Non è forse pensato che le bilance di Fudson fossero tutte sbagliate l'altro giorno, perché pesavi più di tante chili. Oh, quel giorno avevo un abito molto pesante. Pesante è un bel niente. Stavamo venendo da te ieri sera, Fanny, ma avevamo compagnia, proseguì Mrs. Dawson. Chi erano? chiese Fanny istintivamente, contenta della tregua. Bert Rodney e Mr. Grant. Sono così ansiosi di conoscerti. Avrei voluto mandarti a chiamare, ma Belle. Senti un po', Fanny, che ci faceva qui dei vosmer. E poi siete andati in città e tutto il resto. Fanny arrossì a disagio. Non avete visto il giornale della sera? chiese. Come vuoi che facciamo ad aver visto il giornale? Veniamo dalla matinè? David è venuto ieri, disse Fanny, toccando nervosamente la tendina della finestra. Mi aveva scritto un biglietto che il postino mi ha portato proprio quando te ne sei andata con il modello. Quando ci avete visto salire in macchina? Stavamo andando dal dottor Martin a sposarci di nuovo. Mrs. Dawson emise un lungo e basso fischio a titolo di commento. Mrs. Worthington diede sfogo al suo solito che mi venga un colpo, col quale era capace di dare espressione ad ogni sfumatura di stupore, dalla più leggera alla più pronunciata. Al contempo si slacciò il nastro del cappellino che le impediva di respirare liberamente dopo un tale shock. Di che Fanny non è furba dopo questo, Belle. Furba? Mio Dio, è una stupida! Questo significa uscire di senno, lasciare che un uomo la circoisca in quel modo. Mrs. Worthington sembrava incapace di esprimersi se non con frasi sconnesse. Cosa farai ora, Fanny? chiese Lou, che dopo aver espresso con quel fischio tutto lo stupore che intendeva dimostrare, era tornata sufficientemente padrona di sé da volere che la sua naturale curiosità venisse soddisfatta. David vive al sud. Immagino che andremo laggiù piuttosto presto, non appena avrà sistemato le cose qui. Dove nel sud? Oh, non lo so, da qualche parte in Louisiana. C'è da sperare che sia New Orleans, disse Belle con aria saputa. È l'unico posto dove si possa vivere decentemente in Louisiana. No, non è New Orleans, ha una segheria da qualche parte. Cielo, una segheria! esclamò Belle. Lou restò calma alla sorprendente notizia. Oh, non ho intenzione di vivere in una segheria. Vorrei che mi lasciaste in pace comunque, replicò stizzita. C'è una signora che ha una piantagione ed è lì che vive lui. Che discorso senza capo né coda! Una signora, una segheria, una piantagione. Penso che quell'uomo potrebbe farti credere che il nero sia bianco, Fanny Larimore. Mentre Osmer si avvicinava a casa, si infilò meccanicamente la mano in tasca per cercare la chiave. Con la vecchia abitudine alla sofferenza, gli era tornata anche quest'altra consuetudine. Naturalmente non la trovò. Suonò quindi il campanello, facendo trassalire Fanny che saltò su dalla sedia per andargli ad aprire, ma dopo aver fatto pochi passi esitò e si risedette indecisa. Solo al secondo squillo la domestica condiscese contro voglia a rispondere. «Quindi lei ci porterà via Fanny, mister Osmer», disse Belle dopo che lui l'aveva salutata e si era seduto accanto a Mrs. Dawson sul divanetto che stava tra la porta e la finestra. Fanny si sedette alla finestra adiacente e Mrs. Worthington al centro della stanza, che era in effetti così piccola che chiunque di loro avrebbe potuto facilmente raggiungere e quasi toccare le mani degli altri. «Sì, Fanny ha accettato di venire al sud con me», rispose brevemente. «La trovo bene, Mrs. Worthington». «Sì, grazie a Dio non mi ammalo mai. Come dico sempre a Mr. Worthington, non si sbarazzerà mai di me, a meno che non assuma qualcuno per uccidermi». «Ma le dico una cosa, per un pelo, ha corso il rischio di non avere più una Fanny da portare via. È stata molto malata. Gli ne hai parlato, Fanny? Ora che ci penso, immagino che il clima laggiù sia proprio quello che le ci vuole per rimettersi». Mrs. Dawson interruppe l'amica senza scusarsi per chiedere a Osmer se la sua vita nel sud fosse interessante, chiedendogli che gliene raccontasse qualcosa, con uno sguardo che sembrava indicare la più profonda sollecitudine per tutto ciò che lo riguardava. Una presenza maschile aveva sempre l'effetto di risvegliare in Mrs. Dawson un'animazione che era come la vampata di braci assopite sotto l'effetto di una corrente d'aria. Osmer l'aveva sempre considerata una donna amabile, con una sensibilità piuttosto delicata, frivola ma senza le volgarità di Mrs. Worthington e di conseguenza un'amica meno discutibile per Fanny. Le rispose guardandola negli occhi che erano colmi di attenzione. «La mia vita al sud non è di quelle che si possano considerare interessanti. Abito in campagna, dove non ci sono distrazioni che voi, signore, definite divertimenti e lavoro molto duramente. Ma è il tipo di vita a cui ci si affeziona e che ci si ritrova a desiderare di nuovo se capita di cambiarla». «Sì, deve dare molte soddisfazioni», rispose lei al momento perfettamente sincera. «Oh, molto!» esclamò Mrs. Worthington con una risata forte e aggressiva. «Sarebbe perfetta per te, Lou, ma piacerà a Fanny?» «Beh, non ho niente da dire. Grazie a Dio non mi riguarda. Se Fanny dopo un certo periodo scopre che non le piace, ha il diritto di dirlo e ritorneremo qui», disse lui guardando la moglie, cui le sopracciglia inarcate e la bocca afflosciata conferivano un'espressione di rassegnato martirio quale avrebbe potuto avere San Lorenzo quando fu invitato a mettersi a proprio agio sulla graticola. A tal punto le parole di Mrs. Worthington l'avevano impressionata con la forza del loro significato profetico. Mrs. Dawson espresse cortesemente la speranza che Osmer non se ne andasse prima che Jack tornasse a casa. Al marito sarebbe certamente dispiaciuto tantissimo lasciarsi sfuggire l'occasione di vedere un vecchio amico che stimava tanto. Osmer non seppe dire con precisione quando se ne sarebbero andati. Era in trattativa con una persona che voleva affittare la casa mobiliata e sarebbero partiti, non appena sistemati, alcuni dettagli di affari e Fanny avesse raccolto gli oggetti personali che desiderava portare con sé. «Sembri molto colpita da Dave Osmer tutta un tratto», fece osservare Mrs. Worthington all'amica mentre attraversavano la strada. «Un uomo che non ha più sensibilità di un pezzo di legno, è quello che ho sempre detto di lui». «Oh, mi è sempre piaciuto, Osmer», rispose Mrs. Dawson. «Ma pensavo che avesse più buonsenso che legarsi di nuovo a quella piccola stupida dopo aver avuto la fortuna di sbarazzarsi di lei». Qualche giorno dopo Jack tornò a casa. L'intero quartiere se ne accorse perché nessun taxi si annunciava mai con l'impeto, il rumore e lo sbattere di porte del taxi di Jack. L'autista barcolò dietro di lui sotto il peso dell'enorme valigia e fu generosamente pagato per il servizio. Immediatamente le finestre furono spalancate e le tende di pizzo tirate da una parte finché non ne rimase la più piccola traccia visibile dalla strada. Di ciò Mrs. Worthington, che abitava al piano di sopra, si risentiva ogni volta maramente per chi rovinava ai passanti il coup d'oeil generale del palazzo. Ma Mrs. Dawson aveva conquistato la stima del marito con atti simili, come questo di arieggiare la casa secondo i metodi tipicamente maschili di lui, senza preoccuparsi della polvere che sarebbe potuta entrare o del sole che avrebbe potuto scolorire con i suoi raggi il tappeto del salotto. Nuvole di fumo si videro uscire dalle finestre spalancate. I vicini che potevano vedere da casa loro il viaretto d'ingresso dei Dawson avrebbero potuto notare la domestica dirigersi alla drogheria con passo insolitamente animato, per poi tornare con il cestino ben fornito di bottiglie di birra e soda. Una fornitura necessaria a fronteggiare la necessità di cocktail olandesi cui spesso soggiaceva Jack nei suoi periodi di vita domestica. La sera la stessa domestica, senza fiato per le molteplici commissioni che aveva svolto durante la giornata, si presentò dagli Osmer con un invito da parte di Mrs. Dawson. Si stavano preparando per partire il giorno dopo, ma decisero di poter dedicare qualche istante a salutare i loro amici. Jack venne il loro incontro sulla soia con una calda e calorosa stretta di mano e protestò ad alta voce quando seppe che non avrebbero trascorso tutta la serata con loro e che sarebbero andati via il giorno dopo. Per giove non partirete domani e non avrò neanche la possibilità di prendermi la rivincita con Mrs. Osmer per quell'ultima mano. Lei sì che ci sa fare, esclamò, rivolgendosi a Osmer e tenendo Fanny familiarmente per il gomito. Ha preso dal mazzo e che io sia impiccato se non ha avuto fortuna. Ci vuole una donna per fare questo genere di cose e io che avevo in mano tre assi. Ehi là ragazze, ecco Osmer e Fanny. E in risposta a quella chiamata la moglie e Mrs. Worthington sbucarono dalle profondità della sala da pranzo dove stavano preparando dei rinfreschi per gli ospiti attesi. Sentilo, dobbiamo organizzarci per andare a salutarli domani quando partiranno. Se poteste aspettare fino a giovedì potrei accompagnarvi fino a Little Rock. Ma no, aggiunse pensandoci meglio. Devo essere assinzinnati giovedì. Erano entrati tutti in salotto e Mrs. Worthington suggerì che Osmer salisse a far visita al marito che avrebbe trovato a studiare attentamente quei libri interminabili. Non so cosa sia successo negli ultimi tempi a Mr. Worthington, aggiunse. Sta diventando così religioso. Se non è immerso nella lettura della Bibbia, beh, è sicuramente qualcosa di altrettanto brutto. Il bagliore della luce guidò Osmer in cucina dove trovò Lorenzo Worthington seduto al tavolo accanto alla sua lampada da lettura. Il tavolo era coperto da una bella tovaglia rossa. Sul fornello a gas era steso un panno simile. La tela cerata sul pavimento era lucida. Mr. Worthington trasalì. Aveva già dimenticato che sua moglie gli aveva raccontato che Osmer era tornato a St. Louis. Per bacco, Mr. Osmer, e lei? Venga, venga in salotto, non stiamo qui, disse stringendo la mano di Osmer e dirigendosi verso il salotto. No, è molto accogliente qui e posso restare solo un momento, replicò Osmer, sedendosi al tavolo su cui l'altro aveva posato il libro con gli occhiali tra le pagine per tenere il segno. Poi Mr. Worthington tentennò un po' nel tentativo di trovare qualcosa da dire di appropriato per l'occasione. Non voleva mostrarsi frettoloso nel porgere le solite stereotipate congratulazioni, in un caso la cui peculiarità non gli offriva un precedente cui riferirsi. Osmer venne in suo soccorso, osservando con non curanza che erano venuti ad accomiatarsi prima di partire per il sud. Come senza dubbio Mrs. Worthington le ha detto. Sì, sì, ci dispiace molto che andiate via. Perderla, cioè Mrs. Larimore, dovrei dire Mrs. Osmer. Isabella soffrirà certamente molto per la sua partenza. Le vedo sempre insieme, sa. Vedo che ha sempre le sue vecchie abitudini, Mr. Worthington, disse Osmer, indicando con la mano il libro sul tavolo. Sì, in una certa misura è dentro dati limiti, lei capisce. In questo momento sono molto interessato a ricostruire la storia delle religioni a noi note, quelle che si sono estinte così come le religioni esistenti. È curioso infatti notare le circostanze della loro nascita, del loro progresso e della loro inevitabile morte. Sotto questo aspetto sembrano seguire il corso delle nazioni. E degni di approfondimento sono anche le somiglianze che le caratterizzano tutte. Sarebbe sorpreso, signore, nel notare le affinità che ne indicano l'origine comune. Da osservare le lievi differenze, differenze tecniche in realtà, che distinguono l'Islam dalla religione ebraica ed entrambe da quella cristiana. Le diverse dottrine sono evidentemente ramificazioni di quell'unico tronco dalle radici profonde che chiamiamo religione. Ci ha mai pensato, Mr. Osmer? No, ammetto di non averci pensato. Oh, Meyer mi vorrebbe convincere che tutte le religioni non sono altro che creazioni mitologiche inventate per soddisfare una specie di sentimentalismo, un desiderio morboso dell'uomo per l'ignoto e l'indimostrabile. È qui che si sbaglia ed è qui che mi si deve consentire di non essere d'accordo. Come si può scoprire, mio caro signore, seguendo attentamente la storia dell'umanità? Il sentimento religioso è un vero e proprio attributo dell'anima umana, in essa radicato, con un perentorio diritto all'esistenza. Qualunque cosa possa esserci di fallace nelle confessioni, ciò non fa alcuna differenza. Le fondamenta sono lì e non devono essere rimosse. Oh, Meyer, come capisco, dalle sue frequenti allusioni precedenti, è un iconoclasta che distruggerebbe tutto, lasciando dietro di sé solo devastazione e non costruendo nulla. Priverebbe l'umanità dei sostegni ai quali si aggrappa e la lascerebbe riversa e indifesa sulla terra. No, no, lui crede, in un adattamento naturale, lo interruppe Osmer, in una riserva innata di capacità di adattamento. Ciò che noi comunemente chiamiamo leggi di natura, lui le definisce caso e, in società, espedienti arbitrari che una civiltà avanzata ed esigente dovrebbe mettere da parte quando ne abbiano esaurito l'utilità. È un po' impaziente di dover sempre aspettare l'inevitabile adattamento naturale. Ah, mio caro mister Osmer, il mondo non è certo pronto oggi a tollerare la soppressione delle antiche tradizioni. Tolga la religione dall'abita dell'uomo. Ecco, lo sapevo, le sta facendo una predica, sbottò Mrs. Whartington, spalancando la porta e affrontando i due uomini, splendida nel suo abito azzurro con molti ornamenti di acciaio. Come dico sempre a mio marito dovrebbe farsi prete o qualcosa del genere e farla finita. No, no, mia cara, mister Osmer e io ci stavamo semplicemente scambiando qualche ragionamento incoerente. Ci scommetto che erano incoerenti? Immagino che Fanny la voglia, mister Osmer. Se ascolta mister Whartington la terrà qui fino all'alba con le sue idee. Osmer seguì Mrs. Whartington al piano di sotto ed entrò dai Dawson. Entrando nel salone sentì Fanny ridere allegramente e vide che si trovava vicino alla credenza in sala da pranzo a brindare con un bicchiere di punch con Jack Dawson che stava facendo un discorso brillante in occasione del nuovo matrimonio. Alla fine gli Osmer non partirono quando avevano stabilito. È davvero necessario raccontare lo squallure di quel giorno? Ma la sera del giorno successivo Fanny, pallida e tirata, sbirciava dal finestrino del vagone letto mentre il treno si muoveva lentamente dalla stazione. Lui e Jack Dawson sorridevano e salutavano con la mano. Bell si asciugava gli occhi e mister Whartington fissava con espressione vuota la fila dei finestrini, incapace di vederli senza gli occhiali che aveva lasciato tra le pagine del suo Schopenhauer sul tavolo della cucina di casa.